Questo è l'ultimo visitatore per oggi, vediamo che fa Ah, un trucco di magia, vediamo Sì, metti dentro la pallina, chiudi Ah, mescola Ma aspetta, ma che fa, l'ha tolta? Ah, e adesso io so così cretino da... Sta aprendo, e non c'è Ci credo, se l'hai messo in mezzo alle gambe due secondi fa Ahahahahah